Sono entrati come normali clienti, ben vestiti e dall'aspetto rispettabile, ma una volta all'interno della gioielleria hanno aggredito i due impiegati legandoli con fascette da elettricista e spruzzandoli negli occhi spray al peperoncino. Era da poco passato mezzogiorno quando, nella centralissima via Spinetti di Forte dei Marmi, due uomini si sono presentati alla porta della gioielleria Bartorelli. Appena entrati, hanno aggredito il responsabile del negozio e dopo aver mostrato una pistola nella cinta dei pantaloni, in un italiano con un forte accento dell'est Europa hanno intimato di farsi aprire le vetrine e la cassaforte del negozio. Per impedire ai due impiegati di interferire in alcun modo nella rapina, li hanno legati mani e piedi con fascette da elettricista e nascosti nel retro, e come se non bastasse, li hanno spruzzato dello spray urticante negli occhi. In gente il bottino, ancora in fase di conteggio, costituito da orologi delle marche più prestigiose e i gioielli contenuti nel cavo, un colpo che potrebbe superare tranquillamente il centinaio di migliaia di euro. Al termine della rapina si sono allontanate a piedi senza dare nell'occhio, come avrebbero riferito alcuni testimoni. Appena riusciti a dare l'allarme, sul posto sono giunti gli uomini della stazione Carabinieri e il nuovo comandante della compagnia via Regina, Capitano Amato. Gli uomini della scientifica hanno a lungo ascoltato i due impiegati del negozio e esaminato i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare indizi sull'identità dei malviventi, ma per adesso è caccia all'uomo.